Ciao GeneFamily! Oggi, come promesso, vi porto con me nel centro estetico di mia mamma. Andiamo oggi che è chiuso perché gli altri giorni è aperto, ci sono i clienti e non posso farvi vedere come è dentro. Oggi invece possiamo curiosare. Naturalmente c'è anche mia sorella Tiffany. Ciao ragazzi! Andiamo! Benvenuti tutti! Oggi Ginevra cosa vuole fare? Il tour? Sì, il tour. Vi faccio spiare tutte le stanzette, venite con me. Come siamo da qua? Queste sono le lampade che servono per abbronzarsi. Ma Tiffany, cosa stai facendo? Quello non è per i bambini, scendi giù. Scendi giù, quello non è per i bimbi. No! Ci puoi solo dormire allora, visto che è spento. Notte! Buonanotte! Poi, qui ci sono altre lampade, solo che quelle che vi ho fatto vedere prima è a letto e queste invece è a doccia. Qui c'è un'altra doccia! Altra doccia! E qui Tiffany cosa sta facendo? Ma anche questa non è per i bambini! Vieni via di lì! I bimbi non possono fare queste cose. Giù! Io le faccio! No! Andiamo da questa parte, qui c'è il mio angolo preferito, l'angolo del trucco! Con tutte le luci e lo specchio enorme. Guardate che bello! Posso farmi bella? Ma Ginevra, cosa stai facendo? Mi rubi le cose! Eccoci qua! Questa poltrona la vuole rubare per camera mia! Posso prenderla? No! Quella poltrona non si tocca! Adesso non è che tutte le cose fucsia si rubano eh! No! Lo sto rubando! E adesso iniziamo a sbricciare nelle stanzette e venite con me! Eccoci qua! Questa stanza a me piace tantissimo e molto rilassante ma soprattutto questi cuscini a forma di cuore! Ginevra, vuoi rubare anche questi per caso? Ma questi quasi ma li rubo anche tutti! No no no! Non te li puoi rubare! Qui c'è la stanzetta rossa! Eccola qua! Ma che c'è qui? C'è Tiffany! La macarena e... Ma Tiffany balla sempre la macarena! Ma balla la macarena dappertutto mio Dio! Come si balla? È un incubo! Guardate che bello qua! Vorrei usare tutti questi prodotti! Non li puoi usare! Quelli sono per i clienti! Ragazze! Ho sentito dei rumori strani provenire da questa porta! Ma che cosa state facendo? Vogliamo la tisana! Vi state prendendo la tisana? Sì! Ma che cattivelle! Io quando ero molto piccola pensavo che questa fosse la casetta di Biancanevia ma in realtà è solo una sauna! Ve la faccio vedere! Guardate che bella! Dai! Facciamo una sauna e riferiamo! Vieni fuori! Anche la sauna non è per i bambini! Sì! Ma io vi faccio l'idromassaggio! Ciao! Ma che idromassaggio! Vieni qui! Piccola peste! Tu non puoi nessuno di un massaggio! Non la prego! Non la prego! Non la prego! Aiuto! Ma non la puoi prendere in braccia! È troppo pesante! Che matte! Faccio un'altra stanzetta molto particolare! Tutta verde! Guardate che bella che è! Qui c'è un quadro! Guardate! Qui le lucine cambiano il colore! Venite con me! Qui c'è la stanza riservata alla pedicure! Tutta verde Tiffany! E lì c'è un piedone gigante! Ma perché ti fa sempre ridere quel piedone gigante? E lì c'è anche una sede più piccola! Perché mia madre fa anche trattamenti madre e figlia! Quindi i bimbi vengono con la mamma e fanno le cose insieme a lei! Però si può venire anche fra amiche! Si chiama Baby Day! Alcune hanno persino festeggiato il compleanno qui! Sono venute con delle amiche e hanno fatto dei trattamenti apposti per i bambini! Ho preso la merenda! In accampato le cevottine! Nella prossima sala! Tiffany! Tiffany! Io sono qui che aspetta il mio trattamento! Tiffany vuole fare un trattamento! Ok! Allora possiamo fare uno dei trattamenti apposta per i bambini di cui ci parlava prima Ginevra! Sì! Allora gli facciamo una bella maschera per il viso! Facciamo una bella maschera per il viso! Alla frutta! Apposta per i bimbi! Quindi si può mangiare? Andraiati lì signorina! Si può mangiare? Non si può mangiare! A che gusto gliela facciano? Alla frutta! Tutti i frutti! Mettiti lì! Tutti i frutti dell'universo! Magliati pure! Ginevra cosa fai? Le vuoi fare tu? Si vuole sotturare! Ma cosa succede? È la sua pecorella! Povera Tiffany! È la pecorella! Oh! Ecco qui! Mettiamo la mascherina a tiffi! Sì! Vero che è super profumosa? No! Dai! Sì! Troppo, troppo profumosa! Super, super profumosa! Qui c'è la stanzetta dove si fanno le cerette! Tutta rosa! Rosa e verde! No! Rosa e verde! Rosa e verde! Vedi? Vuoi farti la ceretta? No! Vado! Qui c'è la mia stanza preferita! La stanza dedicata alla manicure! Tutta verde Tiffany! Guardate che bella! Vedete quanti smalti che abbiamo qui? Ce ne sono tantissimi! Ce ne sono tantissimi! Io vengo qui, mi siedo qua e la mamma sta lì e mi fa... Mi cura! Mi cura le mie unghiette! Me le cura! Facciamo le manine belle! La sua manicure! Abbiamo già preparato l'acqua con dentro i fiori secchi! Le roselline secche! Ecco! Grazie mille! Grazie mille! Te tu e mi sono? Grazie mille! Grazie. Grazie. Ciao e al prossimo video.